Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Il trading finanziario è un'attività affascinante che attira sempre più persone desiderose di ottenere guadagni dai mercati. Ma quanto tempo ci vuole per diventare un trader di successo? Io sono Pierluigi Tozzi, uno dei coach a Longar Academy e con questo video voglio provare a rispondere a questa domanda che è molto comune tra coloro che desiderano avventurarsi nel modo del trading. Bene, partiamo subito quindi e prima però vi invito a iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella e lasciare un bel like a questo video. Cosa significa diventare un trader? Non c'è la definizione precisa o un punto d'arrivo definitivo che indichi quando qualcuno può essere considerato un trader completo. Tuttavia ci sono alcuni segnali e traguardi che indicano il progresso verso la qualifica di trader esperto. Sicuramente avere una solida comprensione delle dinamiche di mercato e dei fattori che possono influenzare i prezzi. Essere in grado di gestire il rischio in modo responsabile proteggendo il capitale. Essere in grado di gestire le emozioni. Un trader esperto rimane calmo e disciplinato anche durante periodi di volatilità. Avere un piano di trading con chiare strategie di entrata e uscita, con obiettivi di profitto definiti, ma soprattutto avendo disciplina nel seguire le proprie regole. La consapevolezza dei propri limiti e quelli delle proprie strategie, per sapere quando prendere una pausa, ridurre l'esposizione al rischio o evitare di operare in determinate condizioni di mercato. Infine, essere disposti ad imparare dai propri errori e adattare le strategie di conseguenza. Quindi è importante sottolineare che diventare un trader di successo è un processo continuo di apprendimento e miglioramento e anche i trader più esperti continuano ad educarsi ed aggiornarsi sulle nuove tendenze e rivedere le proprie strategie per rimanere competitivi nei mercati finanziari in continua evoluzione. Ma quali sono quindi i principali fattori che influenzano la durata del percorso per diventare un trader di successo? Sicuramente l'apprendimento, ovvero acquisire una solita comprensione dei mercati, delle strategie, oltre alla gestione del rischio. L'esperienza pratica, in quanto occorre acquisire esperienza direttamente sui mercati finanziari per sperimentare magari nuove strategie, analizzarne i risultati e, come detto prima, imparare anche dagli errori commessi. La psicologia del trading, perché paura, avedità, euforia possono influenzare le decisioni e causare errori costosi. Quindi imparare a controllare le emozioni richiede autocontrollo e consapevolezza che però possono essere affinate con l'esperienza, quindi con il tempo. La disciplina è la chiave per seguire il proprio piano di trading e rispettare le regole stabilite. Quindi essere disciplinati nel trading richiede forza mentale e costanza, anche queste affinabili con il tempo. Infine, visto che il trading comporta rischi finanziari significativi, l'aspettativa di guadagno non deve essere sottovalutata. Imparare a utilizzare una gestione del rischio adeguata è sicuramente essenziale per proteggere il proprio capitale. Tutti questi aspetti richiedono, quindi, come detto, del tempo. Un tempo diverso, magari, per ognuno di noi, a seconda di diversi fattori individuali, come l'esperienza, la formazione o anche la propria indole. È normale, quindi, che venga da chiedersi se esistono delle scorciatoie. Questo tipo di narrazione è spesso promosso da chi cerca di vendere corsi o sistemi miracolosi che promettono guadagni rapidi e facili. La realtà, però, è che non esistono formule magiche o sistemi miracolosi. Bisogna essere sempre critici riguardo a queste promesse di guadagni rapidi e facili. Il trading finanziario è un'attività complessa, che richiede un impegno serio, studio, pratica ed esperienza. Se ci pensi, come si potrebbe fare quello che fanno i grandi attori sui mercati, come i fondi e le banche, usando solo qualche formula magica? Direi proprio che non è pensabile. Quindi quanto tempo serve? Non bisogna scoraggiarsi, pensando che sia necessariamente un percorso lungo e difficile. La realtà è che non c'è un periodo di tempo definito per diventare un trader completo. Il percorso, come detto, è influenzato da tanti fattori individuali, come l'esperienza, la formazione, la disciplina e la capacità di adattarsi. E alcuni possono iniziare a fare trading ed essere profittevoli già dopo pochi mesi, anche se per ottenere una conoscenza approfondita degli strumenti e dei mercati potrebbe servire più tempo. In ogni caso, è bene considerare che molto dipende sia dal tempo che possiamo dedicare alla preparazione, sia dal metodo utilizzato per operare. Comunque, anche dopo aver acquisito una certa esperienza, il processo di apprendimento continua, poiché i mercati finanziari sono dinamici e soggetti a cambiamenti. Seguendo qualche semplice consiglio, però, è sicuramente possibile velocizzare i tempi e massimizzare le possibilità di successo. Per esempio, cerca corsi di formazione strutturati e di alta qualità. Affidati a un mentore o un coach esperto nel trading per aiutarti a identificare il giusto percorso, qualcuno con una comprovata esperienza pratica e con un approccio responsabile e realistico nei confronti del trading. Partecipa a una community di trader che ti permettono di connetterti con altre persone che stanno attraversando un percorso simile al tuo. Scambiare idee, strategie o esperienze con altri trader può essere estremamente istruttivo e motivante. Dedica del tempo alla pratica e a testare diverse strategie nel passato, operando magari in demo per non rischiare denaro reale. E infine tieni un diario di trading. Può essere una buona pratica per riflettere sugli errori commessi, identificare punti di forza o aree in cui migliorare. Ogni errore infatti è sempre un'opportunità di crescita e di miglioramento. All'Ungra Academy abbiamo diversi casi di studenti di successo, di cui potete trovare testimonianze su YouTube, i quali con metodo e motivazione sono riusciti a mettere in pratica al meglio i nostri consigli e raggiungere il traguardo di diventare trader in veramente poco tempo. Ma ce ne sono anche tantissimi altri che con tempi legati alla loro situazione specifica sono comunque riusciti a farcela, trovando nell'Academy i giusti strumenti e consigli per velocizzare il percorso, come testimoniano le numerose recensioni positive su Google e Trustpilot. Bene ragazzi, quindi per riassumere, oggi abbiamo capito che per diventare un trader di successo serve sicuramente un impegno serio, dello studio e tanta pratica, in un processo di continuo apprendimento e miglioramento. Questo non deve scoraggiarvi perché con il giusto metodo e la volontà di farcela si può riuscire a raggiungere questo traguardo anche in tempi veramente brevi. Se tra voi c'è qualcuno interessato al mondo del trading sistematico, vi consiglio di cliccare il link in descrizione, da lì potrete vedere un video di Andrea Unger, oppure ottenere il nostro libro bestseller coprendo solo le spese di spedizione, o ancora prenotare una call gratuita con un membro del nostro team. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella così da rimanere sempre aggiornati. Grazie dell'attenzione e alla prossima!